Angelo Pica, questa mattina qui a Stecca, prima riunione del distretto del commercio. Come è andata? Quali sono gli obiettivi che vi proponete? Gli obiettivi sono tanti. Con il nuovo anno diventiamo finalmente operativi e quindi a questo punto abbiamo dato in qualche modo avvio alle attività. Abbiamo nominato sulla proposta del sindaco Vittorio del Greco il coordinatore nella persona del dottor Del Prato e adesso praticamente abbiamo anche dato le deleghe per cui ci occuperemo di formazione, ci occuperemo di bandi, quindi di progettazione europea, ci occuperemo di eventi, ci occuperemo di bottiglie artigiane. Teniamo molto al lavoro da fare sulle piazzette, quindi a rilanciare il commercio per così dire storico del centro Vittorio del Greco. teniamo molto all'artigianato per cui lavoreremo molto su queste cose. Stiamo raccogliendo le forze produttive della città, quindi in qualche modo faccio anche un piccolo appello a tutte le associazioni degli altri settori produttivi, alcuni hanno già aderito, altri stiamo contattando per poter avere un soggetto promotore rappresentativo di tutte le forze produttive della città che poi diventa in qualche modo il luogo di progettazione del futuro della città e quindi anche del futuro soprattutto economico della città. Teniamo molto a questo, che il distretto diventi in qualche modo un luogo inclusivo in cui si possano creare delle proposte importanti per la città e si possano portare avanti. Qual è il vostro primo step ai tempi di realizzazione? Il nostro primo step è legato ovviamente al bilancio della città. Noi intanto abbiamo già in corso un bando per il ristorno dei danni Covid, quindi già entro il 24 sarà possibile presentare queste proposte a parte dei commercianti appunto per ricevere parte delle perdite che hanno subito per i danni Covid, quindi è il primo segno concreto di aiuto alle aziende, ma naturalmente noi non vogliamo fare sostanzialmente aiuto, noi vogliamo fare invece proposta, vogliamo fare sviluppo, vogliamo creare opportunità. Si è costituito di ricente il distretto del commercio, ricordiamo chi ne fa parte? Le associazioni sul territorio sono Confesercenti, Ascom ed Asso Coral che insieme hanno collaborato, fatto rete e messo in piedi il distretto del commercio, ma in realtà non ci fermiamo qui, ma vogliamo assolutamente all'interno del distretto far sì che ci sia la possibilità di fare rete sul territorio. Qual è il momento che vive il settore del commercio nella nostra città? Sicuramente è un momento non facile, questo è poco ma sicuro, però indubbiamente abbiamo tanti progetti e faremo del nostro meglio ovviamente per metterci a disposizione delle imprese.